Giorgia, l'omosessuale è il loro gioco, Giorgia, Cristiana, Giorgia, la proposta da portata Fratelli d'Italia, Giorgia Sono una donna, sono una madre, solo Cristiana, Giorgia, sono una donna, sono una madre, solo Cristiana E' il gioco del pensiero unico, ci devono togliere tutto quello che siamo perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici Noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, solo Cristiana, Giorgia, sono una donna, sono una madre, solo Cristiana Ma noi non siamo persone, noi siamo LGBT e difenderemo la nostra identità Voglio dire che non credo in uno Stato che mette il desiderio di Giorgia di fronte al diritto di un uomo sessuale Uno Stato giusto si occupa del più debole, di quello che non si può difendere da ciò Uno Stato giusto si occupa del più debole E il più debole Giorgia, il uomo sessuale è il loro gioco Giorgia, Cristiana, Giorgia, la proposta da Portana, Fratelli d'Italia Giorgia Giorgia, Giorgia, la proposta da Portana, Fratelli d'Italia